La strada tortuosa che da Siena conduce all'Orcia, attraverso il mare mosso di Crete e di Lavate, che mettono di marzo una peluria verde e una strada fuori del tempo. Una strada aperta e punta con le sue giravolte al cuore dell'enigma, reale o irreale, solare o notturna, assorti ne seguivano il lungo saliscendi di padre in figlio i miei vecchi con un presagio di tormento. Reale o irreale, solare o notturna, interroga negli anni la mente e l'idea di vita le si screzia di un volto doppio imprendibile. Interroga il pianeta duro della landa, i poggi bruciati, le sparse rocche e il vento non so se dal tempo o dallo spazio che frusta il sangue. Pensieri tirati sulla corda di una interrogazione senza fine non lasciano vivere, non hanno risposta. Lo intende bene lei passata da quelle dune. Grazie.